Bellissimo questo campionato, ancora Giorcaef dopo la rimessa laterale concessa ad Ambrosio che si è impaurito con il pressing di Ronaldo, Sartor cerca la collaborazione con il compagno ancora Sartor, entra in rara, Sartor il tiro, il raddoppio dell'Inter, Luigi Sartor, azione personale dopo lo scambio con il compagno di squadra, ma gravissimo il pasticcio della retroguardia Sartor ha vinto un rimpallo e poi è entrato in area tutto solo, liberissimo di battere a rete è il primo gol stagionale per Luigi Sartor, esulta, rivediamo Mijalovic, è rimasto interdetto e poi è grave l'errore di Mannini che rinvia